Le liste con le candidature, quelle per Camera e Senato sono state depositate, tra poche ore si depositeranno anche quelle per le regionali, ma come sono state elaborate queste liste? Davvero rappresentano il territorio? Le polemiche che ne sono seguite hanno fondamento o no? Quindi chi mandiamo, chi possiamo mandare a rappresentarci lì dove si prendono le decisioni? Ne parliamo nel numero 298, anno ottavo di A Porte Aperte. A Porte Aperte E' presidente provinciale del Partito Democratico, reggente la federazione in attesa, in assenza del segretario e del vice entrambi candidati. A livello nazionale ci sono polemiche per le liste fatte a immagine di Matteo Renzi, a livello locale per l'assenza delle minoranze, vediamo se è davvero così. Benvenuto al presidente Domenico Alfieri, buonasera. Buonasera direttore. E' vice coordinatore provinciale di Forza Italia, responsabile regionale del movimento giovanile nel suo partito, a Frosinone può eleggere almeno un senatore, forse due, un deputato, due consiglieri regionali. Alla fine sono rimasti scontenti tutti o quasi, benvenuto a Luca Zaccheri, buonasera. Buonasera direttore, buonasera a casa. Anche a questo numero di apporte aperte potete dire la vostra mandando un messaggino, se volete, via sms, nessun costo in più a quello del normale messaggio, 331 12 456 25, 331 12 456 25. Oppure, via WhatsApp, potete mandare il messaggio al 334 39 4 4 4 0 0, 339 39 3 3 4 3 9 4 4 4 0 0. Belli in campi, allora, vi siete messi davanti al computer, vi siete messi con un po' di click, insomma, se io mi faccio un po' di amici, allora riesco a diventare un candidato al Parlamento o alla Regione. Invece no, avete messo uno sbarramento per evitare che questo accadesse. Mi racconta come funzionano le parlamentarie e le regionarie? Sì, direttore, chiaramente non è così semplice come l'ha rappresentata ironicamente lei. Noi abbiamo corretto qualche piccola imprecisione che c'è stata la prima volta che abbiamo approntato questo metodo, quindi 5 anni fa. È inutile negarlo che eravamo novizi del sistema e quindi qualcosa non è andato come doveva. Quest'anno però possiamo, noi del 5 Stelle possiamo essere soddisfatti perché comunque sia si è rispettato il criterio di territorialità, è un punto su cui noi portavoce locali abbiamo spinto molto con i vertici nazionali, quindi c'è stata finalmente questa rappresentatività del territorio che è emersa. Cioè il criterio della territorialità avete detto, intanto devi essere della provincia di Frusinone, se ti vuoi candidare in provincia di Frusinone devi essere del territorio della provincia di Frusinone. E voi avete messo questo limite, questo primo limite, giusto? Sì, beh, chiaramente noi in ogni tipo di candidatura devi essere comunque candidato nel territorio dove risiedi e quindi mi sembra anche una cosa giusta. Limite non lo so quale può essere in questo nostro sistema, però noi almeno per quanto riguarda i risultati, la lista che ne è venuta fuori possiamo essere soddisfatti. Poi c'è stato il controllo ulteriore oltre a quello dei territori, c'è stato il controllo ulteriore dello staff nazionale e di Luigi Di Maio che si è preso la briga di accettare ogni singola candidatura e andando a valutare anche eventuali situazioni di rischio o situazioni in cui ci possono essere magari delle candidature particolari che devono essere valutate e vagliate con attenzione e in questo caso noi della provincia di Frusinone possiamo essere molto soddisfatti. Quindi una cosa va detta con chiarezza, non bastano i click perché comunque il risultato viene vagliato dopo e cioè dal territorio per vedere se c'è un, con tutto il dovuto rispetto, Mastrangeri della situazione, non perché Mastrangeri sia una pessima persona ma perché è una persona che dopo due settimane dall'elezione non è detto beh insomma non siamo più compatibili, rivederci e grazie. Quindi per evitare una situazione traumatica come quella questa volta avete aggiunto un ulteriore filtro quindi dopo i click vediamo un attimo con chi abbiamo a che fare quindi c'è stato questo ulteriore controllo. Sì sicuramente dopo le singole preferenze prese da ogni candidato dagli iscritti del Movimento 5 Stelle dagli attivisti e da coloro che partecipano sul territorio c'è stato anche il filtro nazionale. Questo è valso per le candidature per il plurinominale poi mentre nell'uninominale le nostre regole interne prevedevano un'apertura ai non iscritti quindi a tutti coloro che volevano, volessero anche in questo caso poter dare il loro contributo e poi la candidatura è stata vagliata direttamente dallo staff nazionale. Siamo in diretta anche su Facebook quindi se volete lasciare qualche domanda anche sulla bacheca Facebook andate sulla bacheca Teleuniverso sulla barra di ricerca di Facebook. Alfieri insomma siete riusciti a scontentare tutti? Sono tutti quanti renziani questi candidati? Non ci sa nessuno della mozione di Orlando? Non ci sta nessuno che rappresenti la mozione di Emiliano? E poi sono usciti sempre gli stessi? Oppure no? Ah io direttore non la vedo così. È una provocazione. Sì certo, le candidature sono state scelte dal nazionale, dal segretario Inpector Matteo Renzi. Non dimentichiamo che Matteo Renzi si è candidato recentemente alla segreteria del Partito Democratico tramite le primarie, ha preso il 75% dei consensi, la mozione Orlando il 15%, penso che questo abbia un significato anche nella metodologia delle scelte delle candidature. Per quanto riguarda la nostra provincia noi ci riteniamo fortemente soddisfatti rispetto alla rappresentanza territoriale, abbiamo in campo nel proporzionale alla Camera Francesco De Angelis che è in posizione legibile al proporzionale alla Camera, all'Uninominale a Nord abbiamo in campo Francesca Cercozzi che è un'iscritta consigliera comunale di Veroli, al Senato abbiamo in campo Maria Spirabotte che è di Frosinoni. Il problema è la discussione sul quanto sia elegibile quella posizione, perché qui si debbano materializzare una serie di condizioni. A mio avviso sono tutti in quota elegibile, assolutamente. Anzi, il partito è stato ancora più riconoscente verso il nostro territorio perché abbiamo addirittura a Nazareno Pirozzi e alla Camera Roma 1, al Collegio Roma 1 in posizione elegibile e Francesco Scalia su quello di Viterbo Rieti al Senato in posizione 3. Certo, tutte queste candidature, nonostante abbiano grandi possibilità di essere realizzate e tornare in Parlamento, dipendono anche da quello che sarà il risultato a livello nazionale del Partito Democratico. Perché comunque qui il seggio scatta se si va oltre una certa percentuale e stando ai sondaggi i quali non crediamo, però comunque siamo proprio sul filo del rasoio. Questo può essere un incentivo in più per impegnarsi, però certo qualche preoccupazione questo ve lo dà? Io penso che il Partito Democratico farà la sua figura anche alle elezioni politiche. Penso che la campagna elettorale farà la differenza, recupereremo dei punti in percentuale che oggi non ci sono e che, ripeto, tutti i candidati sia al proporzionale sia all'uninominali hanno grandi possibilità di essere eletti. Zaccari, allora, qui tutti contenti, tutti soddisfatti, in Forza Italia si potevano eleggere almeno un senatore a seconda della percentuale, per lo stesso ragionamento che facevamo con il PD, potrebbe scattare pure il secolo. Un deputato, due consiglieri regionali, Mario Bruzzesi diceva c'è posto per tutti, non vi preoccupate, qui sono rimasti scontenti un po' tutti quanti. Che è successo? È successo che in una legge elettorale che richiama delle coalizioni, come voi sapete, logicamente noi abbiamo dovuto cedere come partito in favore di questo sodalizio dei posti elegibili, come l'uninominale della Camera del Nord, l'uninominale del Sud, sappiamo tutti quanti, in una posizione favorevole, ci vede oggi dai sondaggi di Repubblica a più del 40%, quindi noi crediamo in questa coalizione, ovviamente la coalizione ha un costo e questo costo viene pagato nelle posizioni elegibili, constatando il fatto che nel ragionamento di Silvio Berlusconi, del nostro Presidente, di eleggere il 33% di personaggi che fanno politica, consiglieri regionali, deputati uscenti, senatori uscenti, di 33% di società civile che poteva portare un avamposto al nostro programma elettorale, e soprattutto alla nostra squadra di governo, alla nostra futura squadra di governo, e il 33% di figure giovanili. Noi nel 33% delle figure professionali, delle figure della società civile, vediamo candidato il nostro conterraneo Peppe Incocciati, un uomo di sport, un uomo capace di far vedere alla politica che non si vive solamente di politica, ma la politica può vivere anche di esperienze personali. E quindi diciamo che noi ci riteniamo abbastanza soddisfatti sulle candidature. Abbiamo un uninominale al sud, che è Mario Abruzzese, abbiamo in una posizione elegibilissima Peppe Incocciati, quindi giocheremo la battaglia per le regionali, quindi molto probabilmente nella prossima squadra di questo partito, in provincia di Frosinone, ci ritroveremo con uno, barra due consiglieri regionali, se riusciremo a strappare la regione al vergognoso governo di Zingaretti, un deputato sicuramente che è Mario Abruzzese per la Camera per il Sud e Giuseppe Incocciati per il Senato. C'è una dichiarazione fatta nelle ore scorse da Alessandra Mandarelli, che è stato assessore regionale, consigliere regionale, era fino a qualche ora fa candidata per Forza Italia alla Regione Lazio, dice che i posti c'erano, il problema è che quei posti in provincia di Frosinone poi non sono andati a persone che in questi anni hanno lavorato per il partito, hanno lavorato tanto al punto che queste percentuali che ci danno i sondaggi non ce le danno perché Berlusconi è bello, ma ce le danno anche perché sul territorio abbiamo lavorato, abbiamo cercato di dare credibilità, abbiamo cercato di governare bene dove stiamo. e lei dice io revoco la mia disponibilità a essere candidata perché voglio dare un segnale di protesta verso questo modo di scegliere le candidature. Sbaglia Alessandra Mandarelli? Allora, innanzitutto io sono molto dispiaciuto dal fatto che Alessandra abbia ritirato la propria candidatura, ci siamo sentiti oggi e le ho esposto questo mio dispiacimento. Certamente, direttore, lei sa che la storia della politica italiana insegna che le candidature saltano e arrivano negli ultimi due o tre giorni, anche nelle ultime ore, quindi i progetti futuri su questo se ne possono fare poco. Chiaramente noi ci riteniamo soddisfatti per la squadra di governo che andremo a formare dopo questa tornata elettorale. Chiaramente ci aspettavamo qualcosina in più perché essendo questa una delle province più forti d'Italia per quanto riguarda il nostro partito, io ricordo quando alle ultime europee, insomma, il dato nazionale era sul 16,8, noi in questa provincia sfondavamo il 25%, quindi siamo una provincia che ha sempre tenuto la barra dritta su questo. Chiaramente il discorso è che poi ci si viene a scontrare con delle realtà che sono al di fuori di questa provincia e il più delle volte scontentano chi è in questa provincia. Io avrei visto benissimo Alessandra Mandarelli, candidata per la Regione Lazio, avrei visto benissimo un suo impegno, tra l'altro lei è stata un'ottima amministratrice di questa regione, ha già detto chiaramente che voterà Forza Italia, che continuerà a stare nel nostro partito, è giusto che sia così perché chi fa opposizione deve restare nel partito, è giusto che nel partito ci sia spazio per qualsiasi tipo di opposizione. Scusate, di opposizione noi non abbiamo mai cacciato nessuno fuori, non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, il nostro è sempre stato un partito inclusivo e se in questa provincia riceviamo risultati che magari nelle altre province non ci sono, è perché effettivamente negli anni abbiamo svolto un lavoro per il quale questa provincia fosse governata per la maggior parte degli abitanti dal centro-destra, non dai comuni ma dagli abitanti. Belli in campi, perché non avete candidato Fabrizio Donato, l'olimpionico? Ci è rimasto molto male, ha detto a me, l'hanno detto all'ultimo momento, solo con un sms, ero pronto a scendere in campo, me l'ha fatto dare le autorizzazioni dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, addirittura mi ero anche preparato gli allenamenti in modo da poter fare sia il politico e sia l'olimpionico, perché alla fine non è stato candidato? Direttore, mi dispiace per Fabrizio Donato, ma non saprei direttamente della vicenda come si è svolta. So che per quanto riguarda le candidature all'Uniluminale c'è stata la direzione dello staff nazionale, quindi poi di Luigi Di Maio, degli europarlamentari che sono coordinatori nazionali, quindi di Fabio Massimo Castaldo, il vicepresidente del Parlamento europeo, e di Ignazio Corrao, che hanno gestito loro questa situazione, nello specifico non so perché non ci sia stata la disponibilità a Fabrizio Donato, ma evidentemente quando hanno fatto le scelte anche di radicamento sul territorio hanno preferito Giuseppe Marrocco. Che comunque era la persona che rappresentava di più il territorio essendo stato candidato sindaco nella tornata scorsa a Cassino, quindi questa probabilmente è la valutazione che è stata fatta. Tra gli avversari, ritiene che insomma, perché i sondaggi lasciano il tempo che trovano, Presidente, giustamente io metto il simbolo, mi chiamano a casa per il sondaggio, lei chi voterebbe? Ah, voterei il Partito Democratico, poi dopo una settimana mi arrivano i candidati, e il candidato chi è Alfieri? Oh che brutto Alfieri, non lo voglio assolutamente, quindi cambiano completamente le prospettive. A questo punto i sondaggi sui quali si appoggia tanto Zaccari, insomma più o meno adesso potrebbero tornare in discussione. Secondo lei i candidati che ci sono e il fatto che comunque, quello che ci diceva Zaccari, noi siamo in una coalizione, è vero la coalizione ti dà forza, perché metti insieme tante altre, però devi pagare anche il Dazio perché i seggi non te li puoi prendere tutti tu, devi dividerli anche con gli altri alleati. Questo in qualche modo, il fatto di avere ad esempio a Frosinone un avversario che in un caso viene da Terracina, in un altro caso, insomma vi agevola o no? Io direttore sono d'accordo con lei, nel senso che i sondaggi sino all'ufficializzazione dei candidati sul territorio sono carta straccia, quelli fino a quel momento lì. Penso che i candidati sul territorio facciano la differenza, possono essere sia un valore aggiunto alla percentuale del partito sul discorso politico, sia un valore che diminuisce quella percentuale. Io penso che quanto riguarda il nostro partito e il Partito Democratico sono sicuramente un valore aggiunto, sia per il Parlamento, Francesco De Angelis, insomma è noto a tutti la sua forza elettorale per quanto riguarda le preferenze, ma anche e soprattutto per le regionali. abbiamo messo in campo una grande squadra, dei candidati forti che rappresentano uniformemente tutto il territorio della provincia di Frosinone, una lista forte ed unitaria, per cui io personalmente, noi come Partito Democratico siamo davvero ottimisti e positivi su quello che sarà il risultato elettorale non solo della nostra provincia, ma anche a livello nazionale del Partito Democratico. Diamo il benvenuto in trasmissione a Fabio Forte, coordinatore provinciale della Lega in provincia di Frosinone, buonasera, tutti erano convinti che il suo lavoro di organizzazione e strutturazione avesse meritato una candidatura al Parlamento, invece al suo posto è stato paracadutato un candidato di Terracina, Forte ha battuto i pugni e adesso ci dice insomma come sono andate le cose, perché un mezzo chiarimento c'è stato? Beh innanzitutto mi scuso per il ritardo ma stavo chiudendo le liste regionali. E mo ci dice pure che è candidato dopo eh? Beh, me lasciamo l'effetto sorpresa credo che sia... Questo è il posto giusto, noi non lo diciamo a nessuno. Quindi come è andata col chiarimento o mezzo chiarimento che c'è stato a Roma? Perché lei ha detto e adesso voi dovete darci qualche cosa con la quale bilanciare lo schiaffo che ci avete dato non riconoscendo un ruolo a questo territorio. Ecco, lei ha detto bene perché il concetto del territorio è ruota tutto attorno al concetto di territorio. La battaglia è stata fatta non sui personalismi ma per difendere quel principio sacrosanto che poi è anche una bandiera se vogliamo del nostro leader Matteo Salvini che è la difesa e la tutela sempre e comunque della territorialità. Io su questo ho fatto una battaglia, credo di aver colto nel segno, anche se è chiaro che le liste non è che possano essere riaperte, questo va da sì, ma far sentire la voce di questa provincia e non essere sempre assoggettati o colonizzati, soprattutto da coloro i quali probabilmente hanno anche una cultura politica non solo diversa da quella nostra che è molto più meridionalista, mi si passa il termine, ha prodotto dei risultati. Credo quindi che la settimana prossima quando Matteo Salvini che mi ha chiamato personalmente ieri verrà a Frosinone ci sarà non un chiarimento ma soprattutto un abbraccio per capire quanto è successo e quali giochi di palazzo sono stati fatti per estromettere questa provincia che fa sempre paura. Pare che c'è una vulgata, io gliela do così, sento delle chiacchiere di bottega, che il problema non sia tanto Frosinone ma che la partita se la siano giocata a Latina, pare insomma, gliela dico così, Claudio Fazzone, potentissimo coordinatore regionale di Forza Italia avrebbe detto Aria, qui il seggio della Liga non se ne parla proprio, andate a Frosinone e quel seggio è andato in quota a Frosinone, potrebbe essere una versione della storia? Ma io a questo non credo, a questo non credo assolutamente, che ci siano poi dei giochi ad incastro fra partiti della stessa coalizione mi sembra anche legittimo, non ci vedo nulla di male, ma il seggio, il seggio, il seggio, perdono, il collegio, sperando che si trasformi poi in seggio parlamentare, è spettato per una suddivisione licita alla provincia di Frosinone, per cui tutti ci aspettavamo a nostra volta che andasse ad un ciociaro. Mi permetta però di fare un inciso su questo, al di là dei potentissimi, i potentissimi ci sono anche a Frosinone, in questa provincia ce ne sono tanti di potentissimi, del resto lei sul suo blog li nomina spesso, anche con soprannomi che si addicono proprio a pennello se non ci fosse questa legge elettorale che ormai noi ci portiamo dal porcellum, probabilmente questi giochi non si farebbero mai, perché non è consentito a nessuno gestire il destino, ma non politico di Fabio Forte o degli amici che sono qui, di un territorio da un leader di partito piuttosto da chi è delegato a fare una lista, lì potrebbe subentrare un fattore di antipatia, di simpatia, di corrente, di giochi a favore di una provincia e quindi di un territorio piuttosto che di un altro, questo è francamente inaccettabile. Intanto una notizia però ce l'ha già portata, voi l'altro giorno in conferenza stampa avete detto o qui si va un chiarimento oppure noi la lista, per le regionali non è che non la vogliamo presentare, però viene a cascare tutta l'architettura che abbiamo messo su perché comunque me ne togli uno e quest'uno tirava la volata all'altro che faceva degli accordi politici con l'altro ancora, qui viene a cascare tutto, non posso presentare questi candidati quindi rischiamo di dover mettere in campo una lista che probabilmente non è il top, invece ha detto stavo lavorando sulla lista per le regionali, se proprio non ci vuole fare i nomi però quantomeno riesce a mettere il meglio in campo o ha dovuto fare degli aggiustamenti? Cioè tradotto, ma che qualcuno si è tirato indietro? Beh di prima acchitto dopo quanto ha preso per quanto riguardava la candidatura le politiche c'è stato un attimo di sconforto e di scoramento anche fisiologico sarei dire, però è prevasto il senso di responsabilità, quindi tutti coloro i quali avevano dato la propria disponibilità a candidarsi alle regionali, l'hanno confermata, l'hanno confermata a piena intelligenza, quindi a scanso di equivoci e sono tutti disponibili, hanno già firmato l'accettazione di candidatura. Vediamo se possiamo avere una selezione di sms che nel frattempo sono arrivati al 331 12, 4, 5, 6, 25, li stanno ancora sistemando quindi li vedremo tra poco. Zaccari, quindi insomma questo è il quadro. Adesso ci sono i nomi, stavamo dicendo quindi, Fabio Forte non c'è, potremmo dire che fortuna uno in meno del territorio anche se però già nelle ore scorse hanno detto noi comunque ci impegneremo fino all'ultimo uomo e saremo leali nei confronti del partito anche perché ci sono tante altre scadenze elettorali che ci potremmo giocare. Adesso che sono stati calati i nomi va meglio o peggio? Certo, Maria Spilabotte ad esempio, candidato all'uninominale contro Massimo Ruspandini, se vi toccava a voi la fortuna di avere un candidato senatore paracadutato da Terracina, insomma immagino che stavate un po' più sereni. Chiaramente le calate dall'alto non piacciono a nessuno, il valore del coordinatore provinciale della Lega si riscontra dall'accelerata incredibile che questo partito ha dato nell'ultimo periodo e chiaramente io sono uno di quelli che credeva in una candidatura di quota, Rosinone, non a Latina, conosco anche personalmente Francesco Ziccheri, non mi dispiace come personalità politica quindi non ho nulla di cui lamentarmi, chiaramente si fa riferimento alle candidature, sì è chiaro, noi come ho detto prima ci aspettavamo qualcosina in più, però il dato da registrare è che in provincia di Frosinone c'è un centro destra talmente forte e talmente organizzato che la classe dirigente uscente del Partito Democratico si candida nelle altre province. Mi impegnerò insieme ai miei ragazzi delle province di Riede e Viterbo a fare avere dossier sulle amministrazioni comunali e provinciali dei candidati senatori che hanno nelle loro liste e quindi vedremo un attimo se loro riusciranno a tirare la volata da altre parti. Dunque, dunque, intanto ci sono un po' di aggiornamenti d'agenzia Movimento 5 Stelle al Via alla cena a Milano dell'Associazione di Casaleggio, mentre Silvio Berlusconi in questione dice attenzione perché il vero nemico in questo momento è il qualunquismo e quindi dobbiamo stare particolarmente attenti al Movimento 5 Stelle perché è un movimento che non ha sostanza, non ha capacità di governo. Preoccupati, Bellincampi, da questo anatema di Berlusconi? No, siamo contenti che Berlusconi è così preoccupato, quindi questa è una cosa che evidentemente ci lusinga perché temono il fatto che il Movimento 5 Stelle è il primo partito a livello nazionale con anche un gap abbastanza evidente rispetto agli altri. Chiaramente noi ci presentiamo da soli, quindi le nostre dinamiche sono diverse da quelle delle varie coalizioni che sono presenti in campo. Si presentate da soli, ma dopo con chi andate? Così, diamo un attimo di... Dopo, come più volte detto, ma ormai quasi quotidianamente, il nostro candidato Premier Luigi Di Maio, dopo andremo con chi vorrà stare in un progetto politico che noi presentiamo molto chiaro. Abbiamo un programma, pochi giorni prima delle elezioni presenteremo una squadra di governo e presenteremo anche i punti fondamentali di questa squadra di governo anche per eventuali candidature, qualora il Movimento non ce la facesse da solo a vincere le elezioni, poi chi ci vuole stare? Si siede intorno a un tavolo? Come succede un po' dappertutto? Si crea una confusione, onestamente lei dice, noi andiamo con un progetto, chi ci vuole stare si accomuna. Ma chi ci vuole stare vi vota e basta? Oppure vi vota e gli date anche una responsabilità di governo, visto che condivide il vostro programma? Perché lì è la differenza di sostanza. Guardi direttore, se vuole le do il numero di Luigi Di Maio, può farle direttamente al candidato premier queste domande più specifiche o quando verrà Frosinone nei prossimi giorni sicuramente avrà una poltrona preferenziale per fargli queste domande. Io non posso espormi sotto questo punto di vista perché comunque sia queste sono cose che vanno anche oltre le mie competenze specifiche politiche appunto nello specifico, però il progetto nostro è chiaro, presenteremo una squadra di governo di super competenze, visto anche i candidati che abbiamo presentato a livello nazionale dell'uninominale, che sono tutte eccellenze italiane, così presenteremo anche una squadra di governo eccellenze del nostro territorio, della nostra amata nazione. Poi chi ci vorrà stare, è chiaro, si siede intorno a un tavolo e si mettono... Non la voglio portare su una cosa nazionale, però facciamo un po' di piccolo gossip politico appena appena, visto che è consigliere comunale a Frosinone, che in consiglio comunale ci sta, ma è vero che Nicola Ottaviani era particolarmente contrariato l'altra sera, come l'ha visto? Sereno, felice oppure stava un po' girata? Ma diciamo che nell'ultimo consiglio comunale è stata evidente la rabbia di alcune correnti del centro-destra che anzi forse è uscita anche in maniera troppo veemente all'interno del consiglio comunale su delle delibere che obiettivamente non avevano questo peso specifico tale da poter generare un caos del genere. Gli scontenti stanno cominciando a fondare il coltello... Ma io non posso parlare per altri, ma è evidente che... Però c'è, l'ha visto? Sì, sì, ma è evidente che Nicola Ottaviani nella sua campagna elettorale abbia anche promesso qualcosa che andava oltre la singola competizione frusinate, poi non è stato accontentato dai vertici nazionali e quindi adesso è difficile dover accontentare tutti. Zaccarina, ma che succede? Cioè a questo punto non è che, come scrive un poco autorevole blog, si dovesse aprire una tensione Ottaviani-Abruzzese? Per dopo, subito dopo i risultati, anche per il controllo del partito, hai visto mai facessero asse questa volta Ottaviani e Iannarilli? Basta con questi del sud della provincia a controllare Forza Italia? Escludo categoricamente prima di tutto perché Forza Italia ha dato un contributo per le elezioni di Nicola Ottaviani, penso anche di un certo peso. Seconda cosa perché Nicola Ottaviani per noi di Forza Italia è un vanto in giro per l'Italia, ce lo riconoscono tutti quanti. Terza cosa perché voglio smentire Bellincampi quando dice che Nicola Ottaviani in campagna elettorale ha fatto delle promesse non mantenute perché Nicola Ottaviani ha svolto la sua campagna elettorale sulle cose che aveva fatto nei cinque anni precedenti. Tra l'altro un sindaco che viene confermato con il 57% dell'elettorato al primo turno contro altri 5-6 candidati sindaco non credo sia proprio soggetto, possa essere soggetto ad opinioni del genere. Io non c'ero durante la campagna, però immagino che ci possa stare a dire guarda, se ti candidi poi quando ci saranno le politiche è normale che tu sarai l'uomo che ci rappresenterà. Questo dovrebbe quantomeno essere dimostrabile come quantomeno potrebbe essere dimostrabile il fatto che Di Battista salti un giro di corsa per aspettare la prossima volta visto che oggi non era designato lui candidato premier ma il suo fido compagno Di Maio. Belli in campi, lei lo può dimostrare questo fatto che hanno fatto? No, io non ho parlato di promesse non mantenute, non è che doveva mantenerle Nicola Ottaviani chiaramente queste promesse, però è evidente che sono state fatte delle promesse e chi doveva rispettarle non le ha rispettate. Presidente Alfieri, le cito una bella dichiarazione del senatore Bruno Astorre al quale a un certo punto gli hanno domandato, beh certo un po' renziane queste liste, il fatto che da giorni si parli esclusivamente delle liste del Partito Democratico fa sorridere, nel centro-destra le liste sono state decise in una stanza ad Arcore, nel Movimento 5 Stelle da più di 15 giorni e ancora non si sanno i risultati delle cliccarie, insomma se Atene piange, Sparta non ride. Beh io penso che al di là di questa grande attenzione che c'è da sempre nei confronti del Partito Democratico, da parte di tutte le altre forze politiche, più che vedere dentro casa loro guardano quello che succede nel Partito Democratico, noi siamo l'unico partito che con determinazione e chiarezza ha anticipato tutti gli altri rispetto a quelle che sono le candidature, questo sia a livello regionale, noi i nostri candidati alla regione li abbiamo già ufficializzati nell'ultima direzione un mese fa, sia a livello del Parlamento, per cui almeno sotto questo aspetto da noi non c'è la confusione e la polemica che c'è dalle altre parti. Adesso ci leggiamo gli sms, però vi segnalo un'agenzia che è bellissima, perché Mario Abruzzese oramai ha saltato chi è pari, le elezioni presa la candidatura già parla da diputato, la flat tax diminuerà la pressione fiscale su famiglie e imprese, oramai ha già cambiato completamente lo scenario e alle agenzie di stampa rilascia dichiarazioni di portata nazionale. Diciamo che sarà un autorito esponente di forze, già si sente e parla da deputato. Gli sms 331 12 456 25 334 39 444 00, certo sono riuscito a ricordarmeli tutti. Allora, vediamo un attimo che cosa dicono, Alfieri è sempre più orgoglioso di essere palianese, continua così, stai facendo diventare questo paese il meglio della cioceria, ma che ci sono pure delle comunali a Paliano, Fabio con te la Lega triplicherà i voti in provincia, il problema è che non c'è lui Marco, Fabio Forte, chapeau, c'è ancora qualche possibilità che Pirozzi sia lei con Parisi, oggi ha detto proprio che no, amata alla regione per una provincia più forte, Fabio Forte, quello che hai fatto tu e che continui a fare è eccezionale, chi si aspettava che mollassi non conosce la tua lealtà e il tuo trascorso politico, Fabio Forte, insomma non lascia perché un altro si sarebbe aspettato, insomma è rimasto deluso a questo punto, ma invece ha dato un segnale ben preciso ed è un segnale in cui si dice no noi restiamo dove stiamo e adesso rivendichiamo però intanto un riconoscimento del territorio e poi ci sono tante altre battaglie, le hanno assicurato che nei prossimi giorni si vedrà con Salvini, che cosa dirà Salvini? Salvini verrà qui, verrà in provincia di Frosinone, noi avremo un confronto schietto, io chiederò conto di quanto è accaduto nella stesura delle liste, in quelle ore concitate che sono state concitate per la Lega come credo siano state concitate per tutti i partiti, adesso qua non è che dobbiamo metterci una bandierina in petto per chi ha pubblicizzato prima o dopo i candidati, questa mi sembra francamente l'ana caprina, voglio chiarire che il problema non è sul nome, il candidato è il nostro coordinatore regionale Francesco Zecchieri, che noi sosterremo con grande realtà, il problema era solo di territorio, mi pare di averlo chiarito ampiamente prima, noi chiederemo un ristoro per questa provincia, ma il ristoro non è solo ed esclusivamente un incarico, perché se io avessi voluto un incarico fino a mezz'ora fa, me ne hanno promessi a Iosa, siccome tutti sanno, almeno coloro i quali mi conoscono, che io non sono uno che si vende, io chiederò attenzione particolare anche ai parlamentari che saranno eletti e mi auguro che saranno eletti per i problemi annosi che soffre questa provincia, la battaglia che avrei fatto io, avrebbe fatto chiunque altro al posto mio, sarebbe stato candidato in Parlamento e chiaramente sarebbe stato eletto, la voce di questa provincia deve essere portata tra i banchi del Parlamento come tra i banchi della regione, considerato che in questi ultimi vent'anni, sempre grazie a queste leggi che non permettono più al cittadino di esprimere liberamente il proprio consenso, la propria preferenza per un candidato o per un altro, sono problemi che non sono stati risolti, ma guardi, Calderoli, che fu l'ideatore del Porcellum, lui stesso dichiarò che era una porcata, il Rosatellum non è meglio perché è un Porcellum riveduto e corretto a beneficio di qualche partito, che poi lo abbiamo votato tutti in Parlamento va da sé, ma si capisca che nel caso in cui il Rosatellum non fosse passato, si stava ancora dibattendo su che tipo di legge elettorale portare avanti e a quel punto avremmo votato con il legalicum, cioè quindi con due leggi differenti per una Camera e per l'altra, quindi il senso di responsabilità in questo senso è prevalso. C'era un messaggio via WhatsApp per Alfieri, se il PD ha fatto davvero così bene, come mai la sottosegretaria Boschi è candidata a Bolzano e a Taormina, ma non nella sua Arezzo? La Boschi è candidata in cinque collegi e questo non significa che non ha fatto bene o che c'è paura che non venga eletta, forse è sintomo di spessore, io la considero una dei migliori dirigenti del Partito Democratico, per competenza e per tutto il resto. Quindi cinque collegi significa che ha spessore, per cui Pilozzi due collegi ha uno spessorino, gli altri invece De Angelis e Scalia che hanno solo un collegio sono trasparenti. Però direttore si è passato dalla Boschi a Pilozzi, non mi sembra un esempio consono al discorso che ho fatto io. La Boschi è un leader nazionale e come tanti altri leader nazionali è candidata in più collegi. Poi, ripeto, l'ho detto prima, se si guarda sempre a quello che succede nel Partito Democratico invece di guardare dentro casa propria è normale che tutto viene visto in maniera negativa. Ci aspettiamo grandi cose dal Movimento 5 Stelle, speriamo però che non siano sempre i soliti no a tutto. Saranno i soliti no a tutto? Se rispondo no. No, sicuramente non saranno, ma non sono mai stati i soliti no a tutto, cioè non è mai assistita questa cosa. Chiaramente il Movimento 5 Stelle porta avanti dei propri principi anche molto rigidi, bisogna anche ammetterlo, che però non sono derogabili. Quindi quando altre forze politiche, come è successo in questi cinque anni di legislatura, altre forze politiche presentano qualcosa di invotabile, è necessario dire di no. Ma in realtà dove stiamo governando, stiamo amministrando, prendiamo ad esempio Roma, non si può dire che si sta dicendo no, è stato detto un forte grande no. Perché Roma per la prima volta viene governata da una realtà che non è mai stata al governo del Campidoglio e ha preso anche delle posizioni nette, di rottura, condivisibili o meno, comunque ha imposto una differenza nei modi di governo della città, che possono piacere o non piacere, però sarà Roma a poter decidere le prossime regionali? O è troppo presto per poter dire abbiamo governato così bene Roma, abbiamo cominciato a dare la nostra impronta, per cui i risultati si vedranno anche da Roma, si proietteranno sulle regionali? I primi risultati del lavoro svolto a Roma sono stati già visti con le elezioni di Ostia, dove tutti ci davano per sconfitti perché la raggia nel mirino dei media da prima della sua elezione a sindaco della Capitale e invece la vittoria di Ostia comunque ha dimostrato che il Movimento 5 Stelle si sta impegnando molto a Roma, per la prima volta c'è stata la comunicazione dell'autorità anticorruzione che ha lodato l'amministrazione Raggi perché per la prima volta vengono fatti gli appalti seguendo le normative come si deve, non si fanno più affidamenti diretti, quindi c'è una gestione finalmente virtuosa dell'amministrazione. I risultati elettorali nell'Interland romano dove stiamo vincendo praticamente ovunque dimostrano ciò che veramente si sta facendo e quanto bene si sta facendo nella Capitale che è una situazione drammatica e disastrosa lasciata soprattutto dal centro-sinistra che ha governato 17-18 anni negli ultimi 25, quindi è evidente che era qualcosa di molto complicato ma l'opinione pubblica questo l'ha capito, ad Ostia abbiamo vinto senza grossi problemi, abbiamo vinto nei grandi comuni della provincia di Roma o in ultimo Guidonia, quindi è chiaro poi la Capitale sono due terzi della popolazione della Regione Lazio quindi incide, evidentemente incide tanto e quindi darà un grosso scossone a queste regionali portando Roberta Lombardi e si spera a vincere la competizione regionale. Zachari, perderete le elezioni regionali perché a Roma il Movimento 5 Stelle ha governato bene e quindi questo darà un peso specifico in più perché Roma appunto 3 milioni e mezzo sta governando bene, sta governando bene, ci sottolinea Bellincampi, sta governando bene e quindi questo adesso già lo abbiamo cominciato a vedere dal punto di vista elettorale nei comuni dove si è votato per cui non ci mettete speranza a vincere la Regione. Non perderemo le regionali, a Roma non è amministrata affatto bene, tra l'altro il dato di Ostia confuso col dato delle comunali è appunto una situazione confusionaria, mi sembra una frase un po' detta così, anche perché se no dovremmo dire che insomma Casa Pound alle prossime elezioni regionali prenderà il 10%, non mi sembra proprio che rappresenti la realtà, ognuno ha una storia a sé, senz'altro Ostia viene da un commissariamento di mafia di 18 mesi, c'è una cittadinanza che ha vissuto governi alternati di centro-sinistra e centro-destra, logicamente dopo un commissariamento per mafia tendi a provare ciò che non hai mai avuto e questa è stata Ostia. C'è un messaggio, come mai la scelta di Quadrini di andare via? Lo sa Gianluca Quadrini. Fabio Forte, c'è un messaggio che domanda, ma insomma allora è confermato Andrea Amata sarà candidato alla Regione per una provincia più forte? Sì, Andrea Amata, il dottore Andrea Amata è tra i candidati alla Regione. A questo punto cominciamo a sfogliare la rosa, uno a uno, il dottor Palombo pure ci sta? Il dottor Carmelo Palombo, vice sindaco di Cassino, è candidato alla Regione, la dottoressa Alessia Savo, sindaco di Torrice, è candidata alla Regione, l'architetto Antonio Abbate di Roccasecca, è candidata alla Regione. Mi lasci le due donne con l'effetto sorpresa che mancano, insomma, no? Bene, quindi questo comunque è l'ossatura della lista. E a questo punto comunque lecito domandarle quanto è difficile cercare di far passare il messaggio che è stato federalista, molto molto nordista della Lega in questo territorio. Fabio Forte ci mette la faccia ed è una garanzia e va bene, ma è difficile far passare questo messaggio o la Lega oramai si è tolta queste incrostazioni nordiste? Era un mio timore iniziale questo, invece poi parlando con la gente, condividendo questo progetto con tanti amici che hanno avuto dei trascorsi politici con me anche nel partito in cui militavo fino a cinque anni fa, devo dire che il consenso c'è, è un consenso che è talmente palpabile che a volte credo che è al di sopra, tradotto in termini elettorali, dei sondaggi che ci propinano. Noi intanto ci fermiamo a questo punto per la pubblicità. A proposito di sondaggi c'è qualche cosa di interessante perché il vostro Zicchieri, se andiamo presso i sondaggi, è eletto a occhi chiusi secondo le rilevazioni che ha fatto fare Repubblica. Righini di Fratelli d'Italia ha appena detto che Zingaretti è uno che fa promesse facili. Salvini è contento perché hanno riammesso i candidati che erano in Lombardia. Giorgio Meloni ha detto che siamo gli unici che possono avere la maggioranza. Pubblicità, un minuto e mezzo di spot, non vi muovete che torniamo in diretta con le domande ai nostri ospiti e con le vostre domande da casa. Continuate a mandare i messaggi. Seconda parte di A Porta Aperte, sempre in diretta su Teleuniverso, stiamo parlando delle prossime elezioni, delle polemiche che ci sono state con la presentazione delle liste per l'incampio. Adesso si presentano le liste per le regionali. Abbioforte ci ha detto quattro sesti della loro lista. La vostra è stata scelta con le regionarie. Il sistema che ci ha spiegato è un'apertura di trasmissione, cioè con i click ma ponderati poi a livello locale, esaminando le liste e poi portando tutto quanto alla nazionale, vi dà delle garanzie anche per le regionali? Questo è un sistema che può piacere o non piacere, per carità. Ci mancherebbe comunque una novità del panorama politico italiano e non solo italiano. Però come per quanto riguarda le parlamentarie, quindi per Camera e Senato, anche per le regionali è stata utilizzata la stessa modalità, quindi gli iscritti potevano decidere liberamente. Ogni singolo voto contava e pesava tantissimo tra gli iscritti della nostra provincia. È uscita fuori una lista che comunque sia pare aver accontentato più o meno tutti i territori della provincia. Anche in questo caso personalmente mi posso ritenere soddisfatto. Poi è chiaro, quando parliamo di candidature c'è sempre un equilibrio anche da dover tenere per cercare di non scontentare nessuno. In questo modo votano gli iscritti, quindi il risultato finale è quello che deve essere accettato da tutti quanti. Per me e per noi va bene così. Alfieri, vi siete fatti fregare le primarie dal Movimento 5 Stelle. Le avete inventate voi e loro se le fanno pure comodamente a domicilio, senza versare i due euro facendo i click. No, non è vero che come metodo ci siamo fatti rubare le primarie. Le abbiamo fatte neanche un anno fa per la scelta del segretario nazionale del nostro partito. Ma non per scegliere i candidati alle regionali. E loro le fanno per ogni cosa. Lo stesso Bellincampi è stato selezionato attraverso le primarie. E si sono fatti pure le secondarie perché quelli che sono stati individuati online poi si sono visti e hanno fatto le graticolarie. Stiamo inserendo così tanti neologismi che è difficile starci dietro. Per candidarsi con il Movimento 5 Stelle bisogna prima studiare la Treccani e poi ci si può presentare. Io penso che se vada utilizzato lo strumento delle primarie comunque vada utilizzato con un contatto diretto con le persone. Di fatto comunque la lista che avete presentato per le regionali è passata all'unanimità in direzione. Sì, sì, assolutamente all'unanimità. Ripeto, è una lista l'assessore uscente, Mauro Buschini, Sara Battisti che è una dirigente anche se giovane che ma da molti anni nel Partito Democratico, Fardelli, consigliere regionale uscente, Barbara Caparelli da tanti anni nel partito, insomma Simone Costanzo, il segretario fino alla sua candidatura e Barbara Dirollo che è una bella figura del Cassinate, del territorio del Cassinate. è una lista forte, competitiva e ripeto che rappresenta uniformemente tutto il territorio della provincia di Frosinone. Farà lei il segretario al prossimo congresso che tanto è dietro l'angolo? Il rumore se dicono di sì. Però quello che dirà il partito, abbiamo cominciato a farmi domande e risposte, ora mi sono a disposizione del partito, se il partito deciderà io sono pronto. Non si tira indietro, insomma. No, dopo le elezioni sarà un congresso e vedremo, insomma. I numeri che dicono? Di cosa? Il congresso si fa in base ai numeri e i numeri così come stanno dicono che Alfieri potrebbe essere il prossimo segretario, se la gioca la partita o no. Si sta aiutando in questi giorni tesseramente, vedremo. Vedremo. Zaccheri, insomma, tutti quanti qualche cosina ce l'hanno detta e adesso che ce la dice qualche cosa pure lei sulle elezioni regionali, cioè con chi sostituite l'avvocato Mandarelli? Io faccio come faceva Morigno quando presentava la formazione alla stampa, manco di tre, quindi ve ne dico tre. Beh, i tre, insomma, probabilmente sono quelli che conosciamo, ma comunque sentiamoli. Abbiamo Ciacciarelli, coordinatore provinciale fino alla candidatura, che rappresenta la zona del sud, abbiamo l'assessore Veronica Di Ruscio di Sora e abbiamo Antonello Iannarelli Idealatri, quindi copriamo il territorio al 100%. A questo punto è saltato, cioè trova, conferma l'indiscrezione arrivata da Roma, che salta comunque tutta la catena che era stata calata sui territori da Andrea Ogello. E' lì che si è scasinato un po' tutto nelle vostre candidature. Non salta nulla, nei prossimi giorni, ecco, stiamo valutando in queste ore la lista più competitiva possibile per il partito, per portare Stefano Parisi ad essere governatore di questa regione. Per essere governatore di questa regione. Fabio Forte, di fatto a questo punto si comincia con i programmi, si comincia con i comizi, ma che Parlamento uscirà da questa legge elettorale? Perché è la prima volta che ci confrontiamo con questa legge elettorale. Molti sospettano che la coalizione, nella quale il suo partito è uno dei quattro pilastri, comunque questa coalizione durerà solo fino al momento in cui il Presidente del Consiglio incaricato riceverà dal Capo dello Stato la delega a provare a comporre un governo. E poi, ognuno per sé, Dio per tutti. Io credo che non si possa affermare una cosa del genere nel momento in cui quattro pilastri, come li chiamava bene lei, che compongono questo colonnato, sono quattro partiti che hanno cultura di governo, non hanno una cultura di opposizione come potrebbe avere, ma per forza di cose, per esempio il Movimento 5 Stelle, non avendo mai governato la cosa pubblica locale, se non da poco, e ovviamente il Paese. I programmi, i programmi credo che siano quelli che il PD ha stracciato in questi ultimi vent'anni, calpestando la dignità di genti, non solo di questa provincia, ma a livello nazionale. Io vorrei parlare con un cittadino sufficientemente cognito di quello che accade in questo Paese per vedere se effettivamente la sanità funziona, se è contento della tassazione, se i servizi sociali funzionano, se si sentono sicuri di vivere in questo Paese, se l'immigrazione così selvaggia non costituisce un problema e un conflitto quindi sociale all'interno del Paese. Ecco, un cittadino comune non direbbe quello che dice l'Istat, così come non direbbe quello che dice il PD delle emerite fandonie per portare acqua al mulino di Zingaretti che per immagine devo dire ha brillato, per proclami altrettanto, ma non posso dire che abbia brillato per azioni amministrative concrete sul territorio. Salvini, chiudere i campi Roma in sei mesi si può se c'è la volontà, il mio obiettivo è chiudere i campi Roma, l'illegalità non va tollerata, stiamo parlando di 40 mila persone su 60 milioni di abitanti in sei mesi, se c'è la volontà il problema. Il problema si può risolvere, lei ne è convinto? Io sono convinto che occorre una fortissima volontà per procedere poi a concretizzare quelle che sono delle enunciazioni di principio. Noi abbiamo quattro punti fondamentali per quanto riguarda il governo, la flat tax di cui rivendichiamo lo ius primen octis perché insomma insieme a Forza Italia indubbiamente siamo stati primi a dire che una tassazione unica possa riportare ad incentivare i consumi nel paese e possa riportare gli investitori anche che sono fuggiti da questo paese, ne abbiamo anche un esempio di cui è stato testimone lo stesso Salvini qui alla Ideal Standard di Rocca Secca. la Fornero che deve essere assolutamente rimodulata se non abolita per i morti e feriti che ha lasciato sul campo, la sicurezza come dicevo prima, sfido chiunque a dire se in questo paese si è sicuri e ovviamente normare e controllare attraverso una legislazione adeguata i flussi migratori, per quanto riguarda Rom io sono completamente d'accordo con Salvini, la cittadinanza italiana ha un valore giuridico o non lo ha? Perché se un rifugiato, quindi con questo status deve venire nel mio paese e deve godere degli stessi diritti se non più diritti di quanto non ne goda un cittadino italiano, io credo che questo paese stia subendo un'involuzione, noi siamo una colonia l'ultima dell'Unione Europea e siamo soggiocati completamente le chiedo scusa dalle politiche che hanno messo in atto in questi anni complici ai governi di sinistra, la Germania e la Francia. Belencampi, perché ce l'avete così tanto con Mauro Buschini? Dite che è lui che sta riempendo Roma di immondizie. Assessore all'ambiente di questo territorio e vorrei capire cosa è stato fatto per l'ambiente di questo territorio, visto che la drammaticità della situazione ambientale e quindi di conseguenza sanitaria che c'è in questo territorio. Per quanto riguarda enunciazioni, promesse e tante belle parole, non li batte nessuno quelli del Partito Democratico, il problema è poi andare a vedere realmente cosa viene fatto sul territorio, sull'ambito di competenza per cui si è stato poi nominato assessore. Non possiamo di certo essere contenti di quello che succede qui, ma neanche di quello che succede a Roma, perché se il Comune di Roma chiede le autorizzazioni per aprire i nuovi impianti, che non si possono fare chiaramente dall'oggi al domani, quindi c'è neanche necessità di fare questi nuovi impianti per gestire autonomamente i rifiuti che sono presenti sul territorio romano e queste autorizzazioni non arrivano, allora evidentemente non si fa il bene della cittadinanza e neanche degli elettori che ti hanno mandato lì a svolgere quell'incarico. Mi sembra evidente questo e poi lo confermeranno anche queste elezioni. Alfieri, ma insomma che fa il vostro assessore regionale? Riempie Roma di immondizie? Intanto a meno risulta che ci siano richieste le autorizzazioni di impianti regione da parte della Raggi. A meno risulta questo. Risulta invece che la Raggi mostra tra le tante cose la sua incapacità amministrativa sul fatto dei rifiuti a Roma, la città va sempre peggio e secondo me è anche un limite, un'umidiazione per un amministratore dopo un anno e mezzo che governa, direi quelli di prima. Cioè è stato un anno e mezzo lì, comincia a parlare di quello che fai tu, di come ti stai muovendo per migliorare la situazione senza pensare a quelli di prima. Quello è un sintomo del peggior fallimento di un amministratore dopo un anno in mezzo di amministrazione che ancora si parla di quelli di prima. E che fa? La Raggi umilia, continua ad umiliare questa provincia, non è l'assessore Buschini perché noi dobbiamo risolvere i problemi dei rifiuti di Roma asservendo il nostro territorio all'incapacità della Raggi. Questo lo vediamo con Col Felice, con la SAF e lo vediamo anche a fianco a casa mia, a Collefagiolara. Perché non più di poco tempo fa la Raggi apporta una trasmissione che penso conosciamo tutti i nazionali, non conosciuta come la sua direttore. Troppo buono, se si candida si è preso il voto adesso. Dove disse chiaramente che non aveva bisogno di impianti perché aveva Collefagiolara, Colleferro dove portare i rifiuti, il termocombustore di Colleferro dove portare i rifiuti, quello di San Vittore, la SAF. Poi i 5 Stelle locali fanno la battaglia per la chiusura di Collefagiolara, fanno la battaglia per la chiusura del termocombustore di Colleferro, parlano della SAF in modo schizofrenico perché comunque sono impianti che stanno servendo a colmare quella che è l'incapacità della Raggi sul piano dei rifiuti. Bellincampi siete un po' schizofrenici, cioè a Paliano dite che bisogna chiudere queste strutture, a Roma invece dite che bisogna tenerte aperte e poi la colpa è di Buschini. Allora partiamo dal presupposto che i rifiuti vengono profumatamente, per usare proprio un ossimoro, vengono profumatamente pagati alla SAF di Colfelice che è di gestione Partito Democratico ormai da tantissimi anni e quindi sia il precedente amministratore delegato che è l'attuale anche contravvenendo agli accordi dell'Assemblea dei Sindaci e quindi dei proprietari in teoria della SAF, quindi contravvenendo a questi accordi continuano a voler i rifiuti di Roma perché altrimenti l'impianto di Colfelice che già è stato impostato dall'inizio come qualcosa di obsoleto e desueto a tutt'oggi nel 2018 lo è ancora di più, senza i rifiuti di Roma andrebbe in perdita, quindi queste sono le parole dell'amministratore delegato designato dal Partito Democratico Migliorelli, quindi non lo dice il Movimento 5 Stelle, poi mi sembra evidente che ogni amministrazione cura gli interessi del proprio territorio, quindi la Raggi pensa agli interessi dei Romani, il Sindaco di Livorno pensa agli interessi dei Livornesi e così come dovrebbe essere dappertutto, il problema è che gli esponenti di questo territorio non pensano agli interessi di questo territorio. Ho una marea di sms, perdonatemi, cerchiamo di essere telegrafici così cerchiamo di dare soddisfazione a tutti a casa. Qual è la posizione degli ospiti sul tema dell'acqua? Ritengono che si debba insistere con la linea della risoluzione contrattuale con Aceato 5 SPA facendo ricorso al Consiglio di Stato oppure lo ritengono un percorso chiuso? Come immaginano la gestione futura del servizio idrico in Ciociaria? Gestione comunale, società mista? Questo o un nuovo privato? Forse l'ultima parte della domanda non tanto ha senso perché Acea ha vinto il ricorso al Tar e quindi resta Acea e da lì non si schioda. La votazione fatta dai sindaci e tutto quanto il resto è come se non fosse mai avvenuta. Però è lecito domandare qual è la posizione sull'acqua anche perché in Regione Lazio c'era una normativa relativa alla gestione delle fonti idriche che poteva andare ad incidere e poi in questi cinque anni è cambiato molto il profilo di questa normativa. Forza Italia, Zaccari qual è la posizione sul tema dell'acqua? La posizione di Forza Italia mi sembra abbastanza chiara, i nostri sindaci sono stati capofila di quella che è stata la battaglia per la risoluzione contrattuale con una vergognosa società che in maniera altrettanto vergognosa gestisce l'acqua in questa provincia che è Acea. Purtroppo il Consiglio di Stato ci ha fatto capire che non è una battaglia così facile. Come lei ben dice c'erano degli appigli in Regione per la quale poter avere una risoluzione contrattuale o poter avere un appiglio affinché questo potesse accadere in futuro. Purtroppo non c'è stata neanche la volontà di farlo perché diciamocelo chiaramente Acea è una società che fa piacere ai romani, ricordiamo tutti quanti prima che non facciamo fare confusione i cittadini a casa, è vero che è una gestione privata ma è vero che è una società a larga partecipazione statale da parte del Comune di Roma. E' pure vero che c'è il 51% però quando poi dicono ah vabbè ma qui che governa Virginia Raggi come ti avvicini ad Acea e provi a dire io sarei il socio di maggioranza, lì gli rispondono io sono l'amministratore delegato, canta quanto ti pare però sono io che governo perché rispondo al Tribunale in base al Codice Civile. Guardi questo è uno dei punti cardine per la quale questa nazione va male, per il fatto che voglio dire abbiamo capito. La SAF è successo lo stesso perché hanno detto i sindaci che sono i soci non prendere i rifiuti da Roma e tutti e due i presidenti e la SAF hanno detto io però devo far quadrare i conti poi ci andate voi a parlare col giudice fallimentare io lo sbilancio non lo faccio. Ma è l'idea di SAF, l'idea di Acea, l'idea di società partecipata che deve essere superata perché chiaramente nel 2018 vediamo che il modello di pubblico ormai ha praticamente fallito. Dovrebbero esserci delle micro società che con un sistema liberale, con un sistema di libero commercio possano far sì che i costi si abbassino, possano far sì che il sistema e la qualità del sistema di gestione idrica migliori come in tutte le altre nazioni. Questi sono modelli che noi dovremmo ricopiare. Ha la testa tra le mani il sindaco di Paliano perché ha perso da poco pure lui la causa con Acea. Non a caso una volta erano comunisti. È stata l'ultima riserva indiana a dover cedere gli impianti. Non a caso erano comunisti, le privatizzazioni non rientrano proprio nel loro sangue. Beh insomma loro avevano questa società, non sbagliare, l'azienda municipalizzata per l'energia, l'acqua e il gas. Noi abbiamo ancora adesso una municipalizzata che ha più di cent'anni perché i comunisti hanno fatto anche belle cose che sono durate negli anni. Non avevate solo bambini insomma. Oltre a mangiare bambini. Che ha la gestione dell'acqua nella mia città. Quando venne fatta la gara in Acea c'era un periodo di salvaguardia previsto dalla legge per quei casi lì come dove veniva a gestire l'acqua dalle municipalizzate avevano altri due anni di salvaguardia per consegnare gli impianti ad Acea. Non è stato fatto e poi Acea ha fatto questo ricorso al tale per la consegna. L'abbiamo perso ma ricorreremo al Consiglio di Stato perché il direttore della Regione Lazio, la Giunta regionale nel mese di dicembre invece, a differenza di quello che dice il collega di Forza Italia, ha fatto una delibera di giunta inottazione della legge 5. Ceri definisce tutti gli ambiti territoriali, diventano addirittura 6 e 10 paesi della provincia di Forosinone vengono spostati in un altro ambito territoriale addirittura. Per cui è stata fatta una legge in attuazione della legge 5 e noi ricorreremo al Consiglio di Stato proprio in riferimento a questa delibera di giunta che appunto redefinisce gli ambiti, dà la possibilità ai comuni di decidere come gestire questi ambiti, se con consorzio oppure con gara, per cui non è proprio così. Zingaretti è andato avanti rispetto a questa questione dell'acqua e come Partito Democratico non c'è una posizione rispetto ad Aceato 5 perché come partito abbiamo sempre dato massima indipendenza dei sindaci perché a mio avviso non è un ragionamento di partito, l'acqua, la saffa e via dicendo, è un ragionamento che va invece lasciato agli amministratori, ai sindaci delle città. Le realtà locali. Altro sms, domande ai vari esponenti. Prevedete un aumento dell'astensionismo per via dell'esteso senso di disaffezione verso le istituzioni politiche che non sono state in grado di arginare l'emorragia di posti di lavoro in provincia di Frosinone? Prevede astensionismo per gli incampi? Non più della misura che ormai già conosciamo, dell'astensionismo che si è radicato in Italia, anzi noi come Movimento 5 Stelle stiamo cercando anzi di rosicchiare una qualche fetta di astensionismo per cercare di riportare alle urne più italiane possibile perché comunque è un diritto e dovrebbe essere anche un dovere andare a votare e quindi partecipare alla cosa pubblica. Altro, sempre su questo tema, la Lega prevede che ci sarà astensionismo oppure come ci dice belli in campi, ma noi comunque siamo delle forze politiche nuove che danno un messaggio diverso a quello del passato, quindi potreste attirare una parte dell'astensionismo? Io ne sono convinto di questo, del resto è una battaglia che facciamo quotidianamente. Il primo partito che noi dobbiamo combattere non è quello rappresentato dall'avversario riconosciuto, ma è il partito dell'astensionismo, cioè dare una nuova motivazione a dei cittadini che sono fisiologicamente sconfortati per tornare alle urne e questo lo si fa parlando un linguaggio di verità innanzitutto e lo si fa soprattutto dando concretezza a tutte quelle enunciazioni di cui parlavano tutti poco fa, quei programmi, quelle buone intenzioni, gli intendimenti. Credo anche che i candidati in questo facciano la differenza. Oggi un candidato non è che per il semplice fatto di stare in un collegio che ha il rating a uno per forza di cose debba essere eletto. Il candidato fa la differenza, perché il candidato dovrà presentarsi all'elettorato, dovrà esporre i propri programmi, i propri progetti, dovrà parlare la lingua del suo partito, non una lingua personale, perché a fare questo siamo bravi tutti. Il candidato sicuramente dovrà, tra le sue prime priorità, scusate il gioco di parole, riavvicinare, riaffezionare l'elettore alla politica e quindi alle istituzioni. Risposta telegrafica, la provincia di Frosinone dice un messaggio, abbandonata a se stessa, l'unica opera realizzata è la superstrada che collega Sora, Frosinone e Ferentino, grazie a Francesco Storace, gli altri invece hanno fatto solo parole, lei cosa ne pensa? Io non posso dare torto a chi ha inviato questo sms, del resto sono oltre 20 anni, se non 25 che in provincia di Frosinone non c'è più un investimento che riguardi una struttura importante piuttosto che una infrastruttura importante. Ricordiamo che queste opere sono state progettate durante la prima Repubblica, quindi una classe politica che non c'è più, alcuni anche biologicamente, e quindi è stata terminata grazie all'impegno dell'amministrazione dell'allora Presidente Francesco Storace, ma da allora noi non abbiamo avuto sul nostro territorio provinciale più nessun investimento. Vogliamo chiedere al rappresentante dei 5 Stelle, a Frosinone Comune, cosa fanno? Sono nulli, non fanno mai nessuna battaglia. Guardi, consiglio al telespettatore che ha inviato un sms di guardare gli streaming dei consigli comunali, che si può fare comodamente da casa, dallo smartphone, dal tablet o dal pc, quindi per valutare poi l'attività del Movimento 5 Stelle a Frosinone non c'è cosa più facile di questo, da andare sul sito del Comune e scaricare le varie documentazioni del nostro gruppo consigliere. In provincia di Frosinone nel Partito Democratico ci sarà un solo vincitore, non so se è il mago Telma di averci mandato questo messaggio, però profetizza che il vincitore sarà Francesco De Angelis, sarà l'unico eletto al Parlamento. Il reggente che cosa ne pensa? Che non è così. Tutti i candidati hanno grandi possibilità di essere eletti. Per Zaccari il problema della cioceria è sempre lo stesso, è un terreno di razzia dei domani, dei romani, fino a qualche anno fa, terreno di razzia nazionale e adesso vogliamo migliorare? Non c'è senso tutto questo. Qual è la razzia che fanno i romani qui? Di fatto ha spiegato che non hanno razziato niente, siamo in una coalizione. Siamo in una coalizione, a parte il fatto che al canzo di Guevici non c'è nessun romano, perché nei posti degli uninominali abbiamo due persone della provincia di Frosinone e uno di Terracina, quindi i romani non ce ne sono. Però non abbiamo tutta questa incidenza, guardate, noi, ripeto, come coordinamenti provinciali di tre partiti che sono tutti e tre competitivi in questa provincia, abbiamo dimostrato di saper fare una politica in mezzo alla gente, l'abbiamo dimostrato nelle ultime tornate elettorali dove siamo passati in 3-4 anni a gestire la maggioranza dei cittadini di questa provincia, quindi non mi sembra proprio così. Poi, questo è un tema serio, al di là di battute, purtroppo noi, io riprendo sempre una battaglia di Peppino Paliotta e Armando Cusani, che era una regione senza Roma, che a dirla fa quasi sorridere, però diciamo che era una battaglia anche di civiltà, una battaglia di dignità che fanno le province del Lazio nei confronti di uno strapotere romano che taglia fondi dappertutto nelle nostre province e che arrega attenzione solo a una disastrata capitale. In questa legislatura forte se ne è parlato della possibilità di rivedere un po' l'assetto delle regioni, di fare le macro regioni, di mettere la provincia di Frosinone con una macro regione insieme alla Campania, un pezzo dell'Abruzzo, secondo lei il prossimo governo dovrà occuparsi anche di questo tema, oppure alla Lega va bene così com'è? Va bene che non volete mettere più i muri sotto Firenze, però rivedere le regioni vi va bene o no? Secondo quel disegno noi saremmo stati la regione tirrenica, quindi ci avrebbero accorpato con la Campania, con la Lucania credo e forse il Molise. Io credo che non si abbia bisogno di questo nel paese, il federalismo è un conto, della secessione non se ne parla più perché era uno slogan alla Bossi, il federalismo invece è importante, il federalismo significa dare centralità alla regione, soprattutto con quello fiscale, quando hanno mistificato i referendum che stavano tenendosi nel Veneto e Lombardia, facendoli passare come secessione, nulla di più falso, ma lei sa, i telespettatori sanno quante risorse che derivano dal pagamento dei tributi, delle tasse, dei cittadini arrivano allo Stato centrale e quante ne rimangono sui territori e quante ne rimangono per esempio alla regione Lazio, nella nostra fattispecie? C'è un rapporto del 70-30, quindi su 100 che si paga il 30 rimane sul tuo territorio e il 70 va allo Stato centrale che dovrebbe utilizzare questi quattrini per i servizi, quelli ancora a pannaggio dello Stato centrale. Io credo che oggi serva un federalismo del genere, rivedere l'Italia solo sotto un punto di vista dei confini geografici, cui prodest direbbe Marco Tullio Cicerone, cioè chi giova? Che ce ne viene a noi? Noi abbiamo bisogno di altro, noi abbiamo bisogno di quelle cose semplici che purtroppo dovrebbero essere state già date sui territori, ma veniamo sempre molto più tardi di quanto non arrivino per esempio degli stati confratelli dell'Unione Europea. Bellincampi, nel prossimo governo ci si dovrà occupare di questo tema, visto che il prossimo governo sarà a 5 Stelle, è un tema fattibile quello che ci propone Zaccheri e cioè basta con lo strapotere di Roma, rivediamo l'assetto dei territori che non è una cosa campata in aria e dal momento che dicevamo in questa legislatura se ne è parlato, abbiamo rischiato di trovarci con i tirrenici. Diciamo che l'impostazione di questa legislatura è stata sbagliata sulle riforme e infatti poi questa legislatura è stata anche penalizzata nel voto del referendum costituzionale, ovviamente, però bisogna chiaramente mettere mano a questa situazione perché Roma fagocita comunque tutte le risorse disponibili nella regione e quindi Roma dovrebbe essere come Londra, una cosa che fa parte a sé, è la capitale della nazione, è qualcosa che non deve avere a che fare con le province che la circondano perché altrimenti è ovvio che saremo sempre, si parlava di candidature, ma come vale per le candidature? Vale per i finanziamenti, vale per i fondi statali e regionali, tutto viene fagocitato da Roma e quindi sicuramente bisognerà mettere mano a questa nuova organizzazione amministrativa. Poi macroregioni sinceramente non capiscono l'utilità di fare questi accorpamenti, ma Alfieri insomma vi eravate messi d'accordo tra D'Alemme e Berlusconi, c'era stata quella bicamerale, metteva d'accordo praticamente tutti i presenti, Roma si faceva città metropolitana, era città regione, tutte le metropoli italiane diventavano una città regione, fine della storia, noi ci saremmo risolti tanti dei nostri problemi, può essere un tema di dibattito e poi perché in questa legislatura poi tutto è saltato, se non sbaglio c'era anche una mappa disegnata in maniera cartografica dal Morassutto e Ranucci se non sbaglio, che poi insomma per nostra fortuna non si è proceduto alla votazione, tema da dibattito nella prossima legislatura abbiamo cose più gravi? No, secondo me sicuramente abbiamo cose più gravi, però condivido quella che è l'impostazione dei colleghi, nel senso comunque il problema affrontato Roma è talmente grande e talmente forte che dovrebbe essere considerata come una cosa a parte e perché comunque il problema di Roma sulle province come è impostato adesso la questione territoriale c'è, c'è sotto tutti gli aspetti sia economici sia politici, per cui il ragionamento di questo va fatto sicuramente, io lo condivido. E' considerato a ragione l'ultimo presidio di legalità operante nel territorio del sud pontino, qualcuno l'ha considerato un contentino dopo la soppressione avvenuta nel settembre 2013 della sezione di Gaeta del Tribunale di Latina, il futuro dell'ufficio del giudice di pace nell'ex palazzo di giustizia di Calegna sarà al centro del dibattito del 17esimo numero di vista sul golfo, la rubrica settimanale di Terio Universo dedicata al comprensorio meridionale della provincia di Latina e non da subito dopo di noi, le toghe del sud pontino si stanno mobilitando perché la struttura venga riservata e preservata ad esternare le loro perplessità, sarà ospite in studio di Saverio Forte, il segretario dell'associazione che raggruppa gli avvocati del sud pontino, Pasquale di Gabriele. Al momento di chiudere questo numero di apporte aperte ancora non c'è la firma sul contratto di vendita di Ideal Standard, sono però ore cruciali e probabili, ci segnalano che nella mattinata di domani ci possa essere una decisione in un senso o nell'altro. incrociamo le braccia per questo territorio, incrociamo le dita per questo territorio. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi a casa per aver reso questa trasmissione ancora più interessante, grazie ai vostri messaggi, ci vediamo tra una settimana, stessa ora, stessa rete. Grazie a tutti.